Clizia ci dà il buongiorno così. Caffè è struccata per mostrarci le occhiaie perché per l'ennesima volta non ha dormito. Ultimamente si sta lamentando un po' troppo. Hai voluto la bicicletta pedala. No. Ci vorrei un caffè doppio. Preso quanto della nottata? Basta inquadrare questo. Un po' di filtro d'ome. Clizia le occhiaie passano. Per fortuna c'è il piccolo Gabriele ed è un amore bellissimo e dolcissimo. Metti un po' di trucco e passa tutto. Grazie a tutti.